direttamente dalla cameretta magica oggi 27 di giugno benvenuto in un nuovo video in questo nuovo video recensiremo e assaggieremo la monster reserve al gusto watermelon comunque volevo fare tantissimi auguri a carlo james raimondi che sarebbe poi rai 112 perché qualche giorno fa è diventato papà e comunque in ogni caso adesso apriamo versiamo come al solito e assaggiamo e comunque faccio un brindisi virtuale per carlo james raimondi dato che comunque è diventato papà che comunque carlo james raimondi alias rai 112 è uno dei miei primi follower che mi seguiva su youtube sin dal 2011 che mi segue ancora tutt'oggi comunque ora assaggiamo ok ok versia ok che comunque questa è la riserva watermelon che sarebbe il watermelon sarebbe mi sa il melo l'anguria ok o meglio comunemente chiamato il cocomero ok assaggiamo ancora direi ottima motorano in 10 litri un bel 8 quindi ve la consiglio che dire niente ci vediamo alla prossima grazie a tutti